Aspetta, che non mi incastro. Allora, guarda qua. Allora, non mi servono queste. Va bene. Allora. Allora, guarda qua. Dì cosa hai provato, dillo, cosa hai provato, cosa hai provato. È un miracolo? È forte, è forte. Come va carissimo? Tutto bene? È interessante, è interessante la cosa. Io ragazzi vi ringrazio di cuore.